Avò parte la banda ultralarga e questo è un fatto assolutamente positivo soprattutto per un territorio, per un comune che ha pagato un prezzo altissimo. Questo però non deve far dimenticare che in tutto il resto del Veneto siamo tremendamente in ritardo. Il 2020 doveva essere l'anno di chiusura per dare a tutti la banda ultralarga. Così non è ed è davvero un'opportunità persa perché mai come in questo momento avremmo avuto bisogno di infrastrutturazione digitale nel nostro territorio. Tutti noi stiamo dialogando l'uno nei confronti dell'altro attraverso i social, attraverso i computer, attraverso l'infrastruttura digitale. Molti non lo possono fare perché chi avrebbe dovuto fare questa opera non l'ha ancora terminata e l'appello al governo che si arrivi quanto prima a una soluzione di questo problema è davvero forte. È inaccettabile che per motivi che non dipendono dal territorio ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B.